Allora, siccome la devo aprire diecimila volte ho sganciato i motori, come si fa a prendere la misura? Io adesso devo montare la lama, il binario, ho una posizione del centro foro dal grafico che avete visto nei video precedenti, centro giusto dei fori delle lama, quindi non è che posso partire così, devo valutare l'altezza del soffitto, perché non è dritto, non c'è niente di dritto in questo mondo, visto che è rotondo. Allora, mettiamo il laser a caso, una misura a caso. Nell'area dove va montato il binario, e arriviamo fin qua, andiamo a rilevare alcuni punti di misura. Il punto minore rispetto al laser appoggiato il metro al soffitto significa che è il punto più basso del soffitto, da lì noi dobbiamo partire col piazzare il binario, perché se noi partiamo a caso, significa che potremo trovarci in un punto più alto e poi nel punto più basso dello storto del soffitto il carrello non entra, perché siamo con le misure tirate. Grazie a tutti. Eccoci amici, ben ritrovati nel mio piccolo laboratorio. Il video era iniziato all'esterno stamattina, poi sono andato un po' avanti con i lavori. Bentrovati, vi saluto ora. Quindi, a che punto siamo arrivati? Perché stamattina, diciamo, è un sabato bello pregno, perché ci siano attaccati un po' dappertutto, nel senso in più lavori. La lavorazione è un po' del ferro, quindi abbiamo preparato le due staffe, i due monconi che voi vedete qui, che serviranno per poi agganciare i carrelli alla porta. Quindi questi due che sono ancora, sono quasi in fase, sono in fase di asciugatura. Questi due svasi che andranno direttamente con le viti sul montante in legno e quello è il foro da 10 che alloggerà praticamente il carrello. Andrà montato un moncone lì e l'altro moncone in quella posizione lì. Il tutto, va che bel muretto bianco che è venuto adesso, abbiamo fatto una bella rinfrescata. Il tutto andrà agganciato qui. Ora vedete il binario, con i distanziali in 3D che vi avevo già nominato, l'architrave, l'architrave in legno di abbassamento appunto per passare con il binario. Per avere delle specifiche in foto, diciamo, potete andare direttamente, eccole là le plange che si ancorano praticamente agli angoli del muro in cemento armato. Stavo dicendo appunto che per avere un dettaglio maggiore a livello fotografico basta che entriate nei gruppi, nei gruppi fai da te, ce ne sono il mio e anche molti altri, dove troverete praticamente tutto il fotografico passo passo, quindi un po' di video e un po' di foto come sono abituato a fare. Ora lasciate perdere il casino perché qui dentro è scoppiata una bomba, adesso do una sistematina. Il tempo, come dicevo, di asciugatura di quelle due flange lì, mettiamo la porta orizzontale sui cavalletti, foriamo, montiamo i carrelli e siamo pronti per agganciare. Una cosa che qua ho avuto più culo che anima era il fatto di fare il guida bandiera, quindi il guida porta inferiore, costruirlo in 3D e avevo già iniziato a progettarlo. Se non che, se non che, sono andato ad installare un arredamento da un signore e questo signore ci ha chiesto la cortesia, visto che eravamo lì per i nostri, per il nostro montaggio, di montargli un paio di porte scorrevoli che lui si era preso online per conto suo. Le porte che ha preso lui sono porte che hanno due tipologie di guida bandiera, io lo chiamo così, inferiore. C'è il perno, cioè quindi la pinna che va fissata a pavimento perché vuol dire che la porta all'incastro, oppure se si vuole lavorare all'esterno c'è questo trafanario, chiamiamolo così, che in casa diciamo che è bruttino da vedere. Però essendo studiato in modo molto industrialotto, qui due forellini sul battiscopa e abbiamo, abbiamo fatto, abbiamo evitato di fare il meccanismo in 3D, perché è già bello che è pronto, vite di regolo che fa in maniera di spostare la ruota per dare lo spazio appunto in base allo spessore dell'anta e in questo caso all'interno di questa flangia che andrà diciamo applicata al muro c'è anche un piccolo cuscinettino in gomma che applicato così mi fa da guida, da guida porta al muro. Quindi una volta regolato lo spessore della porta e fissato due vitine al battiscopa in base all'altezza della porta, devo spendere un'ora di progettazione e stampare quando il pezzo mi è caduto dal cielo, è stato un bel colpo di fortuna. Bene dai! Stavo dimenticando che c'è anche un'altra cosa fondamentale per la quale più di qualcuno di voi mi ha interpellato sul canale e mi ha detto Luca non ho ben capito, non mi è ben chiaro come hai fatto a ratrezzare la porta. Se vi ricordate il video precedente, anzi no scusate, allora sul video precedente naturalmente dopo lo sfogo di quei due minuti di quei tre signori che non nominiamo naturalmente per far capire appunto che questa è tutta roba di riciclo, quindi le perline erano molto torte e l'ho chiarito anche sul post, l'ultimo post che ho caricato nei gruppi. La porta prima di montare le perline era un biliardo, quando ho montato le perline è andata storta e stiamo parlando che da un angolo all'altro c'erano 15 centimetri di torsione, 140 per 2,26 ci sta, ma 15 centimetri, cioè come l'ho vista, come l'ho messa in piedi e finita, ho detto qua la pieghiamo a metà con il seghetto alternativo in due così è comodo da portare in discarica, no? Perché? Quel tanto che volevo neanche caricarla, sta modifica che ho fatto, però poi ho detto caspita ma alla luce del giorno devono vedere qualsiasi cosa, sia il bello anche il brutto, quindi la soluzione ad un problema che era abbastanza drastico. Ora se osservate la porta è tornata dritta come un biliardo e questo ve lo voglio spiegare un attimo per chi appunto mi ha detto, Luca non l'ho ben capito. Allora, aspetta che guardo l'inquadratura perché è una cosa magari importante per chi, eccola lì, se voi osservate ora, vediamo se riesco, ecco sì bene, perfetto, se voi osservate ora che cosa ho fatto io? Questi due angoli, quindi il superiore, guardando la porta da dietro ora, il superiore destro e l'inferiore sinistro si erano accartocciati verso l'esterno, avevo da un punto all'altro, come dicevo prima, 15 centimetri, non un centimetro e mezzo o 5, 15 centimetri di fuori asse. Una vecchia lama di acciaio, era un passapiede, diciamo da pavimento a pavimento, di un capannone. In effetti se osservate c'è anche tutto lo sporco che io ho raschiato un po' di silicone per continuare a farvi capire che è tutta roba vecchia, tutta roba riciclata. Tagliata naturalmente, inclinata e inclinata sulle teste per dare appunto un capo e una fine sul diagonale della porta, cosa ho fatto? Ho preso le cinghie a cricchetto, naturalmente queste due erano i due angoli che erano spinte all'esterno. Quindi dalla parte, da questa parte, parte rovescia, agganciato sotto, agganciato sopra, criccò finché la porta piangeva. Si sentivano alcuni schioccherelli in giro, però non me ne fregava niente. Ho detto o la spacco o la raddrizzo. Questa è la situazione. quindi tensionata ma a morte, ma proprio, cioè le cinghie, già già questa lamina suona come una chitarra. Dipensate le cinghie. Le cinghie, cioè io non ce la facevo più a tirare il cricchetto, quindi tensionata oltre la misura, quindi sono andato ben oltre i 15 centimetri, quindi vuol dire che l'ho, agganciandomi con le cinghie raddrizzata e sono andato oltre di altri minimo 5 centimetri, quindi era proprio, sapete quelle situazioni in cui tiri e sei lì, messo lì che non sai cosa succede, no? Ok. Quindi portata al contrario, fissate 6 viti in testa e 6 viti in coda della lama e tolte le cinghie. Quando io ho tolto le cinghie la lama era in tensione, ok? Perché la porta togliendo le cinghie ritorna al difetto. Non è tornata, cioè non mi era stata dritta però, perché la torsione che io ho fatto con le cinghie e la lama fissata ai due punti non era sufficiente, ma mancava poco, mancava poco. Allora, per far sì che la lama venisse in tensione ancora di più non avendo un regolatore, perché avevo pensato anche ad una corda d'acciaio con i regolatori quelli che si girano, però devo sempre considerare che è una porta scorrevole. Sulla parte posteriore io devo passare al muro, non potevo mettere ganci e poi come mi imbragavo non era facile una corda d'acciaio, mentre una lama è più sicura perché ha un punto di appoggio e di attacco viti maggiore. Cosa ho fatto per vincere anche quel poco di difetto che era ritornato? Ho praticamente tagliato due pezzi di multistrato da 15 mm che ci sta dentro a filo muro, perché già le perline sono 5 mm interne ai montanti, non quella centrale ma queste qua laterali, dove ci sono gli spessori. Quindi vuol dire che io sono cresciuto di un centimetro, io ho un centimetro e mezzo d'aria da quel che è del muro perché c'è il battiscopa. Ora mettendo sotto un pezzo qua e un pezzo qua e andando a regolarli, più io li allargo e vado vicino ai punti di attacco, più la porta si tira perché è come se io aggiungessi tensione, cioè vado a tirare, a spostare dalla superficie la lama. Una volta che io ho trovato la giusta posizione dei due pezzi, spostandoli pian pianino tanto uno quanto l'altro e traguardando la porta, ho messo due viti di bloccaggio sui montanti centrali e si può suonare il contrabbasso e la porta è rimasta dritta. Ecco ragazzi che mi ha chiesto appunto come ho fatto a raddrizzare 15 centimetri, ma ci siamo riusciti. Cercate di sentirmi lo stesso, ho terminato la batteria del microfono e quindi per terminare il video facciamo alla vecchia maniera. Eccola, montata. Ora manca solo ed esclusivamente i fine corsa 1 e 2 per non uscire. Ho già montato anche i due notolini sempre stampati in 3D sopra al telaio, se vedete ci sono due notolini antisgancio perché è quel centimetrino che serve per sganciare il carrello, se io lo vado ad occupare con uno spessore in plastica praticamente lui non può sganciarsi. E il discorso è fatto. Adesso è tutto anche se c'è il casino dietro. Il risultato è questo. Poi quando ci saranno in fine corsa sappiamo sempre fin dove aprirla e sappiamo sempre fin dove chiuderla. E la guida bandiera sotto funzionante ha avvitato il battiscopa e siamo a posto. Ora naturalmente qui abbiamo le sembianze un po' più umane e quindi diciamo che quando è aperto è un bel vedere. Ma soprattutto a livello estetico anche nel tunnel era una cosa spregevole, una cosa brutta vedere un po' anche se io tenevo sempre il più ordinato possibile però non era assolutamente. Adesso sembra l'ingresso di una casa faccio per dire o un'altra casa. Bene, allora, quindi tirando le somme come dico sempre mi auguro di essere stato abbastanza chiaro, abbastanza esaustivo nella spiegazione di quel che mi sono inventato di fare. Tutto funziona, tutto è anche carino da vedere, io sono soddisfatto, me lo auguro anche a chi mi segue, insomma a voi tutti. Se avete domande, perplessità, critiche, a patto siano costruttive, positive, io sono sempre qui, sapete dove trovarmi. Non mi resta altro che ringraziarvi per la vostra fiducia e per la vostra pazienza come sempre e noi ci vediamo, non lo so, al prossimo progetto e alla prossima vettura. Ciao amici! Grazie a tutti!